UCCIDIAMOLI! Prendi questo! Attacca le forze! Capriti le spalle! Mi hanno bloccato! UCCIDIAMOLI! 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 Copertura! Copertura! Attacca le forze! UCCIDIAMOLI! Parclet brid melon! SONTACUM! Soldato a terra! Fuoco! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Robo sentinelle in arrivo. Ma stanno arrivando le forze d'assalto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.